del 2003, un secondo posto nel 2001 ai mondiali di Edmonton. Bungay che ha un personale assoluto di 1'42'34, quindi personale fantastico. Sui blocchi di partenza ricordiamo che nella prima serie ci sono stati tempi da recuperare intorno fra l'1'47'03 e l'1'47'74. Balà cattivo alla faccia, meno male, speriamo. Senza anche Bogdanov al russo che quest'anno è stato protagonista al coperto, ha vinto il titolo europeo indoor a Madrid. Dunque fuori gara Christensen. Torniamo sugli 800, Robinson, Bungay, continua la corsa di Mohamed Al-Azemi che tiene il passo dei primi due, Balà in quarta posizione, c'è Bogdanov, gli altri siamo davvero in difficoltà, compreso Ciappieschi con un po' indietro, però ancora non è tagliato fuori, attenzione alla sua volata finale, entrano i primi tre ed ufficio, gli altri devono sperare nei tempi ripescati. Volata finale, Bungay e Robinson, tiene molto bene anche Balà, ma anche Al-Azemi, Robinson, Balà, Bungay, va a vincere Balà davanti a Bungay, a Robinson, Bogdanov e Ciappieschi e Quinto. E qui saranno tanti recuperati perché sono arrivati... In un fazzoletto proprio. Cinque potrebbero essere arrivati entro l'1'47'. Minipausa. Power.